Signore e signori membri del Comitato delle Regioni, benvenuti al Parlamento europeo. So che più tardi festeggerete i 25 anni di vita del Comitato, ma voglio subito congratularmi con voi, già da ora ringraziarvi per portare ogni giorno la voce delle Regioni e delle città europee nel lavoro delle istituzioni. Abbiamo molto lavoro da fare insieme, siamo solo all'inizio della legislatura, sapete e avete seguito il processo di formazione della nuova Commissione e già siamo pronti per cominciare un lavoro importante. L'11 di dicembre ho convocato una seduta plenaria straordinaria del Parlamento europeo per ascoltare il primo intervento della nuova Commissione sul New Grid Deal e quindi avere dalla Commissione la visione di un processo legislativo che dovrà modificare, proteggere, aumentare le capacità del patrimonio industriale ed economico dell'Europa. Sono felice di partecipare alla vostra riflessione sullo Stato dell'Unione, sullo speciale angolo divisuale sull'Europa che hanno le Regioni e le città. Siamo ad un snodo importante nella vita dell'Unione europea. Sappiamo che la democrazia europea può essere più forte, ma ha bisogno di cambiare, ha bisogno di nuova linfa, di riforme, di un nuovo slancio politico. È per questo che il Parlamento europeo ha posto al centro del suo lavoro di queste settimane due questioni che sono essenziali, la preparazione della conferenza sul futuro dell'Europa e i negoziati sul quadro finanziario pluriennale e sulle nuove risorse proprie. Negli ultimi dieci anni l'Unione europea ha affrontato la crisi finanziaria, la crisi della Grecia e le questioni migratorie in modo tempestivo, ma senza una visione unitaria e condivisa. Durante l'intera crisi finanziaria, e voi lo ricorderete bene, abbiamo assistito a un aumento e non a una diminuzione delle disuguaglianze e della povertà in Europa, insieme alla percezione crescente delle persone di essere molto più sole di prima, in un mondo che però è più complesso e in cui i meccanismi della globalizzazione possono marginalizzare le nostre aree, i nostri territori, i nostri paesi con una velocità inconsueta. Molti si sono resi conto di essere rimasti indietro e di essere molto più soli di prima. Voi lo sapete bene perché i comuni e le regioni, le nostre grandi città, sono i primi sensori del malessere sociale. Sono quelli che per primi registrano il crescente aumento della povertà, della solitudine e anche della rabbia. Per questo è necessario che questa legislatura europea dia segnali forti di discontinuità. Abbiamo bisogno di cambiamento per dare all'Unione la capacità di agire, di ampliare la legittimità democratica, di dire ai nostri cittadini che le nostre istituzioni sono funzionanti e in grado di dare risposte tempestive e rapide. Questa legislatura dovrà affrontare in via prioritaria le questioni che riguardano la vita delle persone. La conferenza sul futuro dell'Europa può rappresentare una sede importante di questo processo, in cui le attese e le richieste dei cittadini sono ascoltate, discusse con le istituzioni, nelle istituzioni e per rafforzare le istituzioni democratiche. L'impegno assunto dalla Presidente von der Leyen di tenere questa conferenza, cominciandone il percorso subito all'inizio del 2020, del prossimo anno, è un'opportunità tempestiva e apprezzata dal Parlamento, anche perché la Presidente ha indicato nel Parlamento la guida di questo processo. Ne ho parlato di recente con la Presidente von der Leyen, con il Presidente del Consiglio Michel, riteniamo importante che le tre istituzioni lavorino insieme per riformare l'Europa. A gennaio 2020 le tre istituzioni, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento avvieranno i negoziati sull'organizzazione e sul formato della conferenza. Il Parlamento europeo vuole animare questo processo che dovrà coinvolgere tutti, anche voi. Ripetiamolo, l'Europa è sì le sue istituzioni comunitarie, ma l'Europa sono anche tutte le istituzioni dei nostri Paesi. E la collaborazione fra le nostre istituzioni nazionali e comunitarie è fondamentale. Non possono esserci processi calati dall'alto e non condivisi dai nostri cittadini e dai nostri Paesi. Ecco perché in qualità di Presidente del Parlamento ho proposto di istituire un gruppo di lavoro subito, con l'obiettivo di definire le priorità, gli obiettivi del Parlamento per questa conferenza. Le conclusioni del gruppo di lavoro dovrebbero essere presentate alla riunione della Conferenza dei Presidenti entro il 19 dicembre, fra pochi giorni, per consentire alla Conferenza dei Presidenti del Parlamento di definire una risoluzione che noi vogliamo presentare nella sessione plenaria a Strasburgo del mese di gennaio. Vogliamo partire subito e in queste settimane abbiamo discusso di diversi aspetti. Le politiche da riformare, le questioni istituzionali, la comunicazione, la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni nazionali. Nelle prossime settimane affronteremo il tema della governance della conferenza, che dovrà vedere allo stesso tempo le tre istituzioni in un ruolo guida, ma anche un'ampia consultazione e un vasto coinvolgimento delle autorità locali, della società civile, delle università, delle parti sociali. Come Parlamento dovremmo portare una riflessione particolare su come rafforzare il ruolo e l'azione della nostra istituzione nel processo democratico. Penso ad esempio ad un uso migliore, più mirato del nostro diritto di iniziativa. Non ne vogliamo molto, ne vogliamo un po' e allora avremo tutti gli strumenti per poter dire che al centro del sistema democratico europeo c'è il Parlamento e la voce dei cittadini. Penso ad un miglior uso e più mirato di questo diritto di iniziativa e a una valutazione su come utilizzare maggiormente e più efficacemente i poteri di bilancio e di controllo democratico del Parlamento. Desidero già da ora invitare il Comitato delle Regioni ad essere al nostro fianco, a partecipare a questo dibattito che non riguarda i componenti e i membri del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, ma riguarda la società europea. Quello che noi vorremmo diventasse la società europea nei prossimi anni. Cambiamenti, dicevamo, che hanno bisogno di riforme. Abbiamo in mente molte iniziative, alcune sono in gran parte contenute nel nuovo programma della Commissione von der Leyen, perché la Presidente ha saputo ascoltare il Parlamento e molte delle sue iniziative sono iniziative del Parlamento. Questo è un buon modo di far collaborare le nostre istituzioni. abbiamo naturalmente una negoziazione alle porte molto importante e decisiva, che è quella del quadro finanziario pluriennale, e cioè di quella che sarà l'Unione Europea nei prossimi sette anni. non è un dibattito per commercialisti, è un dibattito per politici che hanno e vogliono avere una visione dell'Europa. Abbiamo in questo un periodo molto duro, perché voi sapete che molte proposte che sono le proposte che arrivano sono per il Parlamento inaccettabili. Abbiamo bisogno di investire sull'agenda europea e non di fotografare l'esistente. Ecco perché il Parlamento europeo ha detto a più riprese che il bilancio dovrà essere ambizioso e dovrà essere in grado di sostenere il successo della Commissione. Noi vogliamo il successo della Commissione, ma se il bilancio non sarà capace di avere l'ambizione sufficiente a sostenere iniziative, programmi, investimenti adeguati, vorrà dire che ci sono alcuni governi in Europa che non stanno investendo sul successo della Commissione. Il Parlamento la pensa diversamente e su questo vorrei che vi fosse una forte alleanza fra il Parlamento e il Comitato delle Regioni. Voglio dire subito che la nuova proposta finlandese di un mandato negoziale come trapelata in questi giorni è molto al di sotto del necessario e non consentirebbe di realizzare i programmi di lavoro della Commissione per i quali la Commissione ha ottenuto il voto del Parlamento. Le priorità chiave del mandato negoziale aggiornato del Parlamento europeo per il negoziato sull'MFF e sulle risorse proprie, sui programmi settoriali, sono molto chiare. I massimali globali del QFP dovrebbero essere fissati a un livello pari all'1,3% del reddito nazionale lordo. questa posizione non è una provocazione come qualcuno pensa. Questa posizione si basa su una valutazione dal basso verso l'alto del livello di finanziamento richiesto per ogni programma politico e di spesa dell'Unione europea, al netto degli adeguamenti necessari per le iniziative supplementari annunciate dalla Presidente von der Leyen sul Green New Deal oppure sul Fondo per una transizione giusta. Il Parlamento europeo non darà il suo consenso, perché voglio ricordarlo che il Parlamento europeo vota l'MFF. non darà il suo consenso senza un accordo parallelo sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e su questo c'è una grandissima maggioranza del Parlamento. È essenziale introdurre nuove risorse proprie, come anche incentivare le priorità politiche dell'Unione europea, come i redditi derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione, un contributo basato sulla plastica e un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera. L'obiettivo è raggiungere il miglior risultato per i cittadini. Le settimane e i mesi a venire saranno cruciali affinché il Parlamento spieghi la propria posizione sul QFP ai principali attori politici e ai cittadini. Desideriamo garantire finanziamenti a favore di nuove priorità per rispondere alle aspettative dei cittadini. Abbiamo bisogno, per quanto riguarda il Green Deal europeo, di un fondo di transizione giusto, finanziato adeguatamente, perché vogliamo che alcuni Paesi continuino nella strada della liberazione dalla dipendenza del carbone. Voi lo sapete, partiamo tutti da standard diversi. Noi vogliamo trovare un equilibrio e abbiamo bisogno di un fondo di transizione equo finanziato adeguatamente per tutti. Non possiamo accettare, inoltre, e su questo voi che siete anche responsabili di tanti servizi ai cittadini. Dovete dirlo con forza. Non possiamo accettare che si tagli drasticamente la politica di coesione, perché creeremo un'Europa squilibrata. E spero che su questo faremo grande strada insieme, perché questo è il motore dell'integrazione europea e ha permesso di sostenere territori, comunità nello sviluppo economico, nelle politiche di sostenibilità sociale e ambientale. Territori che non dobbiamo lasciare indietro. Anzi, vogliamo una politica di coesione che riallacci sempre più centro e periferia. Nostre città e le campagne, ma anche il cuore dell'Europa con le periferie dell'Europa. Ce ne sono troppe e sono lasciate indietro. Abbiamo davanti grandi transizioni, importanti, epocali addirittura. La transizione ecologica è una di quelle, assieme a quella digitale. La nostra sfida sarà quella di mettere in atto tutti gli strumenti che abbiamo per investire sulla ricerca, per creare nuovi posti di lavoro basati su fonti energetiche alternative in grado di compensare i cambiamenti dovuti a questa fase di passaggio. Proprio per questo il Parlamento europeo ha proposto di introdurre una dotazione specifica, pari a 4,8 miliardi di euro, per un nuovo fondo per una transizione energetica giusta, per affrontare le ripercussioni sociali, socio-economiche, ambientali, per proteggere i lavoratori, per proteggere e difendere le comunità che sono colpite e saranno colpite dalla transizione. Noi vogliamo che questi strumenti mettano in moto l'economia, non la esauriscano. Vogliamo nuovi posti di lavoro e abbiamo bisogno di sostenere tutto questo con un bilancio, ripeto, ambizioso. La Presidente della Commissione ha espresso sostegno al principio alla base del fondo, ma occorre ora che quel fondo abbia una dotazione autonoma e non debba contare sui fondi di coesione per funzionare. So che nella vostra ultima sessione plenaria voi avete adottato un parere sulla ristrutturazione socio-economica delle regioni carbonifere in Europa che va nella giusta direzione. Il Parlamento Europeo è pronto a un negoziato costruttivo con il Consiglio, ma vogliamo essere pienamente coinvolti nel negoziato a tutti i livelli e su tutti gli aspetti del QFP, le risorse proprie, le proposte legislative settoriali che istituiscono i nuovi programmi dell'Unione Europea, nonché la proposta sullo Stato di diritto nel rispetto pieno delle prerogative legislative. Non accetteremo una posizione del Consiglio che non rispetti le prerogative del Parlamento o che non tenga debitamente conto delle sue posizioni. Come ho detto ai Capi di Stato e di Governo nell'ultima riunione del Consiglio Europeo, a ottobre il Parlamento Europeo è pronto a negoziare da oltre un anno. Il 10 ottobre del 2019, lo ripeto, il Parlamento ha ribadito la sua posizione in merito al quadro finanziario pluriannale e alle risorse proprie. La posizione del Parlamento è stata affinata in ottobre per rafforzare la protezione del clima. Noi crediamo che sarà possibile lavorare bene insieme al servizio dei cittadini, insieme ai governi e alla Commissione. Il Parlamento Europeo però non approverà automaticamente i risultati del Consiglio. intendiamo avviare negoziati significativi su tutti gli aspetti del pacchetto e dei programmi. Dopotutto qui sono in gioco le priorità, la credibilità dell'Unione Europea, delle sue istituzioni, perché tutto questo riguarda il futuro dell'Europa. Abbiamo anche un'altra sfida da fare insieme e ve la lancio come possibilità, tema di riflessione. Noi abbiamo bisogno con voi di definire meglio il concetto di solidarietà e anche di estenderlo. Dobbiamo lavorarci bene insieme perché noi abbiamo bisogno tramite il concetto della solidarietà di ricollegare l'Europa del Sud all'Europa del Nord e di guardare con punti di vista anche nuovi a questo tema forte, che è come sviluppare la solidarietà tra i paesi europei. Voi lo sapete, ci sono tanti punti di vista con i quali noi diamo significato alle politiche di solidarietà. Per i paesi del Sud questo significa una grande sfida, che è anche quella dell'immigrazione, di una politica per l'immigrazione. Per alcuni paesi del Nord e dell'Est solidarietà significa anche difesa dello spazio europeo. Se riusciremo ad ampliare il concetto di solidarietà tenendo fermo il punto di vista di tanti interessi che hanno bisogno di solidarietà nuove, noi le distanze le accorceremo perché tutti capiranno che difendere le frontiere a Est o al Nord è un lavoro per gli europei, avere una politica per l'immigrazione è un lavoro per gli europei. Credo che noi su questo dovremo lavorare di più per consentire anche ai nostri cittadini, che magari sono turbati e guardano soltanto alle questioni da un certo punto di vista, di ampliare la loro visuale. Le questioni della solidarietà, come declinarle, svilupparle per fare in modo che l'Europa sia più forte e in grado di affrontare le sfide del futuro. Io vi ringrazio e per me è un onore naturalmente accogliere la vostra assemblea e la vostra riflessione ci interessa molto. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti.